Non si fermano i furti di rame in Alta Erpina. I ladri questa volta hanno preso di mira una cabina elettrica dell'Enel in una contrada di Morra de Sanctis. Ai confini con il territorio di Andretta, un'azione dei balordi che ha portato forti e gravi disservizi ad abitazioni ed aziende di alcune contrade dei due comuni. Sul posto squadre dell'Enel e di alcune ditte esterne che stanno lavorando da ore per sostituire i cavi di rame e ripristinare il funzionamento delle cabine. Quindi della linea elettrica. Intanto sono decine le famiglie senza energia elettrica da più di 36 ore con tante proteste soprattutto sui social dove i cittadini chiedono spiegazioni ed aiuto perché la situazione inizia ad essere insostenibile. Anche se, come fanno sapere fonti molto vicine all'Enel, il tutto potrebbe e dovrebbe essere risolto nelle prossime ore. Resta la gravità e la recidiva della situazione. Infatti non è la prima volta che quella parte di territorio irpino è vittima di atti così assurdi. L'ultima volta ad essere colpite cabine elettriche tra i territori di Cairano ed Andretta. Ed ecco il perché della rabbia dei cittadini che se la sono presa molto probabilmente a ragione con tutto e tutti dicendo di sentirsi abbandonati. E non considerati sul caso indagano i carabinieri della compagnia di Sant'Angelo dei Lombardi che sono intervenuti immediatamente ed ora stanno provando a risalire alla banda di delinquenti che probabilmente è la stessa che ha messo a segno altre azioni del genere nel territorio altirpino nei mesi scorsi.